Aldo Masullo ha amato profondamente Napoli, conferirgli la cittadinanza onoraria ha dato lustro alla nostra città. Gianluca Daniele, segretario generale SLC CGL Napoli, ha parlato così del filosofo e politico scomparso nell'aprile del 2020 nel corso del dibattito Aldo Masullo, il pensiero e l'impegno politico, organizzato dall'Associazione Mercurio e moderato dal giornalista Antonio Vastarelli. La figura di Masullo in questo non è solo una figura politica, ma rappresenta anche quell'idea delle istituzioni alte per i ruoli che lui ha svolto, per il pensiero che lui in qualche maniera ha trasmesso a tanti giovani, alla sinistra nel suo complesso. Tra altre cose è stato quello che è riuscito in qualche maniera a coniugare il concetto di sinistra con il concetto di libertà. Tra i presenti Aldo Cennamo, che ha rimarcato l'assonanza tra l'impianto di Berlinguer, sostenuto da forti valori ideali, con le idee di Masullo sul rigore morale dell'azione politica. Un punto di riferimento indispensabile per il rinnovamento della politica, per il rinnovamento della società italiana. Non potremmo prescindere in questi tempi dal pensare e dal riferirci a questo grande punto di riferimento. L'occasione è stata la presentazione del libro di Nino Daniele Aldo Masullo, La filosofia in soccorso dei cittadini. Ecco l'autore ai nostri microfoni. Sì, questo è innanzitutto un libro dedicato a quest'amicizia in qualche modo, che è durata alcuni decenni, soprattutto è un rapporto nato in modo singolare. Io infatti sostengo che, ovviamente trattandosi del libro dedicato al ruolo di un filosofo nella nostra città, non può non occuparsi anche di filosofia. Però io sottolineo che il mio rapporto e il mio incontro con Aldo Masullo non avviene nelle aule universitarie, questo succede dopo. Il primo incontro avviene in una sede politica, in una sezione politica. Quindi il mio rapporto con Aldo Masullo è soprattutto un rapporto su basi politiche.